Sì. Signorina, va tutto bene? Le sue condizioni? Il proiettile è entrato nel lobo temporale sinistro della roba. Una lobotomia causata da uno spara. Hai un'idea di che possa averti fatto questo? Fatto cosa? Un inquietante mistero sconvolge Algo King Bay. Un nuovo caso per il detective dal passato oscuro. Dal best seller di Jill Blunt, Cardinal. La seconda stagione, in onda sulla F e disponibile on demand. Grazie a tutti.